Ciao, sono Luca Canali e regista di Stay. Questo progetto mi ha particolarmente interessato perché va a trattare un argomento che purtroppo sta dilagando tra i giovani. Sto parlando del fenomeno di autodesunismo e del suicidio. Abbiamo quindi preferito utilizzare il genere horror perché è il genere che più piace a ragazzi. In questo corto verrete trasportati da atmosfere dark che però non lasceranno indietro un finale inaspettato. Buona visione.